Buonasera, felice di essere tornata a Sarsana e ogni volta, pur essendo già venuta altre volte, trovo che questi posti sono veramente ogni volta sorprendenti, bellissimi, quindi è una tale gioia poi tornare davanti alle persone, anche se mi sento un po' in imbarazzo, perché dopo una presentazione così profonda, meditata, piena di dati come quella che ha fatto il professor Mantovani, mi accorgo che noi diremo così parole e sarà molto difficile ancorarle proprio a degli elementi così stringenti come è il rapporto con la realtà immediata che abbiamo ascoltato adesso, penso di avere un vantaggio, le immagini mie sono più belle di quelle del covid, su questo penso che mi darete ragione. Ecco, diciamo che quando sono stata invitata alla Benedetta Marietti a parlare su questo tema del sogno, che vuol dire mille cose, il sogno mio personale, la fuga dalla realtà, oppure viceversa appunto il sogno di vincere una sfida così forte come quella che stiamo attraversando, io che mi occupo di storia dell'arte, la connessione immediata, quasi inevitabile parlando di sogno, è con un'esperienza del primo novecento di un gruppo di artisti che sono i surrealisti, i quali dopo Freud e dopo questa analisi scientifica sul tema dei sogni, sono un po' lo specchio, diciamo visivo, cercano di dare voce a queste intuizioni. Non parlerò dei surrealisti, mi sono permessa questa piccola variante, perché da un lato immagino che insomma sono immagini così scontate da Salvador D'Alia, del Voa Magritte, dai nostri calendari, ai nostri poster, insomma che mi sembrerebbe anche un po' un'offesa proporre soltanto quelle. Certo, quello è il primo elemento che ci viene incontro e poi personalmente non li amo neanche tanto, cioè di più forse in letteratura, meno nella pittura, perché a me sembra a volte, a volte non tutti, perché per esempio già Magritte, meglio già Max Ernst, è bellissimo, ma da lì del Voa, eccetera, c'è una componente così, diciamo, sono così scritti, così dettagliati, così precisi, non c'è quasi margine, non c'è quel margine di indecifrabilità che a volte l'opera d'arte ti dà, insomma. Ogni volta che tu rileggi un libro importante, come diceva Eco, è un'opera aperta, cioè puoi scavarmi le altre cose, da ragazzini abbiamo tutti letto, non so, Guerre e Pace, andando a cercare il momento di amore di Natasha, poi più grandi l'abbiamo rilegto cercando la morte del principe Andrea, insomma, ogni libro ti ritorna tante cose. Quindi i surrealisti per me hanno un momento questo limite, però non volevo dire perché ho scelto di circoscrivere queste immagini che vorrei presentare a un momento della storia che precede questa conoscenza anche scientifica del sogno. Quello che mi sembra di poter difendere, ma non sono io perché Giuliano Briganti, Guidal Mansi, molti altri perecchi, eccetera, hanno scritto già molto su questo, è che gli artisti a volte hanno delle antenne e in qualche modo, in maniera del tutto intuitiva, in maniera del tutto assistematica, in maniera del tutto soggettiva, scavano in quella di quell'abisso, insomma, di cose che poi, alle quali la scienza poi più tardi dà una legittimazione. Quindi Freud non conosceva questi artisti, lui confessa che non ha mai conosciuto le opere di Fisley, di Redon, di William Blake, eccetera, ma a un certo punto a un suo compleanno, quando compie 60 anni, dice io questo mondo nascosto in teviore e l'inconscio, so che non sono stato il primo a scoprirlo, degli artisti l'hanno già, come dire, avvistato, io ho fornito il metodo scientifico di analisi di questo. Ecco, io, questa serie di artisti si collocano soprattutto in età romantica, tra la fine del Settecento e l'Ottocento e vorrei permettermi di fare una scelta di queste cose, però prima non posso non far vedere, insomma, in fondo quelli che sono i proprietari del sogno, cioè in pittura sono i surrealisti che ci raccontano questa dimensione dell'io interiore di uno stato che non è quello di Veglia, questo è Salvador Dalì, voi vedete cos'è questo racconto, è una pittura che ci racconta sempre delle cose notissime, casuali, noi riconosciamo perfettamente un uomo che sta suonando il pianoforte, gli oggetti sono quelli di tutti i giorni, poi c'è un elemento di dissonanza, cioè questa apparizione di sei immagini di Lenin. Ecco, questo è il momento che non è più il momento della logica razionale e della Veglia, è il momento in cui qualcosa rompe il senso logico e non voglio annoiarvi con immagini che conoscete benissimo, questa è una variante di un altro dipinto di Dalì, che siamo sempre negli anni trenta del novecento, che si chiamava l'altro gli orologi molli, questo si chiama la persistenza della memoria, anche qui l'oggetto più banale con il quale noi abbiamo a che fare quotidianamente viene proposto in un modo del tutto improbabile, del tutto illogico, che rompe quella razionalità che guida le nostre vite e quindi dà risalto a qualcosa che l'esperienza viceversa continua a negare, quindi ci apre su altri orizzonti. Io trovo eccessivamente, come posso dire, per il mio temperamento quasi oleografici questi racconti, cioè se tu li devi spiegare tutto è molto chiaro, non c'è quel margine di mistero, di differenze e così lo stesso potrei citare per dire che questo è il punto in cui il sogno si esprime in maniera molto consapevole nella pittura attraverso un movimento che ha in letteratura Breton, che ha un vero manifesto, che ha una serie di pittori che come voi potete immaginare hanno molto a che fare anche con il cinema oramai, a cominciare da Salvador Dalì, che lavora con Bunuel e così via. Questo è un dipinto di Magritte, non dei più strafamosi che tutti avete in mente, però è il tema del sogno, cioè l'uomo che sognando davanti a sé, diciamo, fa come una specie di elenco di quelli che sono gli attributi della sua vita quotidiana. Questa scissione fra il momento in cui la coscienza non è presente e le cose che sono appunto i suoi emblemi. Mi permetto ancora due flash prima di abbandonare questi artisti perché per esempio forse già con Max Ernst, che è un altro di questi pittori di questi anni, la cosa si complica perché Max Ernst sperimenta molto anche il mezzo espressivo e lavora molto anche sul tema, sul titolo stesso del dipinto che in qualche modo è come in dialettica, cioè che cos'è questa immagine? È un'immagine apparentemente elegiaca, idillica, c'è una bella casetta, ci sono dei bambini che corrono, però il titolo è Due fanciulli minacciati da un signolo, quindi entra a quel punto l'elemento del tutto improbabile, del tutto irrazionale, che rompe questo equilibrio e introduce un'ambiguità, un disagio. Insomma, loro dicevano un ombrello è un ombrello, ma se un ombrello lo trovi sul tavolo operatorio diventa un elemento insomma perturbante, cioè in sé non lo è, ma lo diventa una certa situazione e trovo che da questo punto di vista sempre Max Ernst, che poi ha una vita complicata, si può vedere un po' anche da qui perché alla fine vive in Arizona, era molto legato anche a Peggy Guggenheim prima, ma insomma qui fa una serie di dipinti che sono le villes petrifie, dove lui introduce per esempio un meccanismo, un modo di lavorare, che è il frottage, che tutti conoscete perché da bambini tutti noi abbiamo preso una moneta e poi abbiamo messo un foglio, poi con la grafite abbiamo cominciato a disegnare. E il frottage che cos'è? È un elemento che ti permette di far affiorare l'immagine che c'è sotto, però ti consente a un certo punto di introdurre l'elemento di uno scarto, cioè di fermarti, o far apparire l'immagine nitidissima o lasciarla a questo momento larvale di fantasma e da lì questo ti suggerisce altro. Quindi introduce un elemento che è meno meccanico, le hasard, il caso, questo gioco fra la scelta e il caso fa sì che le immagini di Max Ernst siano già meno, non dico pedanti, ma insomma meno meticolose di quelle di altri surrealisti come Davide, come Salvador Dalì. E in questo caso questa serie delle villes petrifie, delle città fossili che affiorano attraverso questo elemento, questo strumento che è il frottage, sono come cinte, sono come assediate da una giungla carnale e in fondo inquietante, da una luna del tutto improbabile e quindi quello che è un paesaggio assume una dimensione lunare, una dimensione altra, che è appunto il tema della pittura surrealista legittimato in questa operazione dalla grande, diciamo, impatto che aveva avuto la cultura freudiana. Diciamo che il punto d'arrivo di questi artisti, il punto, scusatemi, di partenza di questi artisti però è in precedenza e cioè tutti questi artisti degli anni 20 e 30 fanno riferimento alla pittura di De Chirico che propone già questo tema dell'enigma. Per esempio in questo che è uno dei suoi grandi dipinti, Le Muse inquietanti, voi vi accorgete che tutto è riconoscibile, cioè è una piazza però il pavimento è come un assito quindi molto anomalo. Sullo sfondo c'è un castello riconoscibilissimo che è il castello estense di Ferrara perché il riferimento per lui è Ferrara, però ci sono le ciminiere passato presente nella città industriale, ci sono queste figure che non sono più figure ma sono manichini, una si è tolta la testa e l'ha appoggiata, cioè c'è questa immobilità, questa irrazionalità, questa rottura di una logica che avverte che si vuole esplorare una dimensione onirica, una dimensione che non è quella della percezione dei sensi. Diciamo che tutto questo settore va contro, nega quello che è il risultato della nostra esperienza scientifica. Questo non lo voglio raccontare, mi interessa di più vedere in maniera meno coordinata ma certamente più affascinante una specie come di anticipo dell'idea del sogno che si trova in una serie di artisti per gran parte non italiani. Un'altra strada che ho appunto scartato ma che ci serve soltanto per introdurre è quella che se si parla di sogni ognuno di noi potrebbe fare una sequenza, un'antologia di tutto come è stato raccontato il sogno nella pittura da grandi artisti. Scelgo due due affreschi diciamo da manuale che abbiamo studiato forse anche a scuola e cioè Giotto a Padova nella Cappella degli Scrovegni 1305 quando racconta un sogno biblico cioè Gioacchino che si addormenta e l'angelo arriva e gli annuncia che la moglie già Anna già in età avanzata potrà invece per creare nascerà il Battista. E l'altro è il Piero della Francesca che è il sogno di Costantino prima della battaglia di Massenzio quando l'angelo gli porta il segno della croce e dice Inoxinio vince. Ecco anche questo modo di raccontare il sogno non è quello che ci interessa adesso cioè questo è un sogno che è raccontato in questi due capolavori meravigliosi con una tranquillità con una serenità con una un sogno diciamo solare un sogno vedrete non schizofrenico come quelli che andremo a vedere cioè è ancora un sogno raccontato come se fosse realtà cioè senza nessun elemento così di penetrazione in questo in questo mondo interiore che c'è un poeta dell'età romantica Richter lui si faceva chiamare Jean Paul e dice io voglio esplorare questa nostra Africa interiore cioè questo continente che è dentro di noi e di cui non conosciamo quasi niente che viene sempre represso perché quel è l'occhio diciamo fisico quello che ci fa vedere il mondo quindi entrerei in tema proponendo ancora due sogni nella pittura ma già due sogni diciamo dove è entrato un tarlo che ha completamente cancellato questa idea classica del sogno sono due pittori che lavorano più o meno negli stessi anni e quasi tutti gli artisti di cui parliamo adesso sono artisti dell'età romantica che in gran parte non italiani ma che vivono e hanno diciamo questo elemento il detonatore della loro genialità è Roma cioè Roma nel mille nell'anno nel secolo del 700 è già una città purtroppo mi dispiace dirlo una città di provincia ha pochissimi abitanti in una crisi economica terribile abitata quasi solo da preti cioè il mondo moderno in quegli anni è l'Inghilterra proto industriale è la Germania è la città dell'illuminismo dei filosofi l'Italia che è stata leader nella cultura prima con Firenze nel rilascimento poi Roma anche tutto il 600 nel 700 è una città quasi morta però è ancora il palcoscenico c'è ancora il luogo dove tutto succede ognuno di questi artisti sa che non si può essere moderni se non si è fatto questo viaggio iniziatico di avere incontrato Roma che era Roma che cosa era l'incontro con l'antichità cioè l'antichità non era la Grecia dove c'erano i turchi e gli ottomani ed era pericolosissimo andare l'antichità era la conoscenza del mondo antico romano e questa esperienza è inevitabile qualunque artista quello di sinistra che è Fussli è di Zurigo un artista svizzero che poi sarà trionfante in Inghilterra e a destra è uno dei più grandi pittori francesi dell'ottocento che è Ingres tutti e due appunto sono a Roma perché l'esperienza iniziatica fondamentale che cambia la vita è questo incontro con questo passato memorabile meraviglioso che è il mondo antico e perché nel settecento perché nel settecento a metà settecento non sapete insomma come si fanno per la prima volta questi scavi impressionanti di Pompei di Ercolano cioè queste città sepolte affiorano all'improvviso prima dell'antico si conoscevano il Pantheon il Colosseo le mura aureliane cioè alcuni gli acquidotti cioè alcuni grandi elementi architettonici invece viene fuori il vivere gli unici affreschi mai si era conosciuto un affresco dell'antichità si vedono adesso nel settecento a Pompei un artista come Jacques-Louis David che è questo artista francese dice quando sono arrivato mi sono cadute le cataratte cioè ho per la prima volta visto ho conosciuto questa quindi è un'esperienza determinante allora voglio far vedere come due artisti molto diversi un artista molto tormentato come Fussli che viene da Zurigo che aveva letto tutto Milton tutto Shakespeare tutto Dante aveva studiato con Bodmer che era un intellettuale racconta il sogno di un pastore all'alba ora non si vede il sogno ma già si coglie questa idea che il sogno è lo sprofondare in questa notte in questo mondo oscuro dove non c'è più questo razionalità che ci guida e abbandonarsi appunto a è la rivelazione di qualcosa d'altro e l'altro che è Ingres che è un artista francese che passa per essere l'erede di Raffaello cioè di un artista perfetto e classico quando dipinge questo il sogno di Ossian ha questi antichi guerrieri che erano i suoi compagni cioè Ossian vecchio era questo bardo leggendario dell'età romantica a cui si attribuiva l'origine della letteratura nel nord che con la sua lira sogna quando è vecchio ormai i suoi compagni d'arbe morti e Fingal che è suo padre in primo piano con l'armatura e vedete che c'è questa immagine invece spettrale sembrano fatti come di neve questi cavalieri cioè c'è già l'idea che il sogno non rappresenta più questa bella realtà tranquilla che cui siamo abituati ma ci permette di dimenticare noi stessi e abbandonarci a una dimensione visionaria che prima non si controlla posso spiegare in maniera proprio didattica come farei con i miei studenti a volte mettendo due cose a confronto cerco sempre di scegliere qualcosa che nello stesso luogo siamo a roma negli stessi anni perché a sinistra c'è fusli 1800 1781 a destra c'è jacques louis david il pittore della rivoluzione francese il grande protagonista insomma della civiltà napoleonica che è dell'84 cioè tre anni dopo quindi siamo nello stesso mondo siamo negli stessi anni e siamo attraverso due grandi protagonisti della cultura di quegli anni ecco sto dicendo che alle spalle di tutto questo per tutti e due c'è la stessa cosa cioè c'è l'incontro con roma david ottiene dal re questa commissione per fare questo quadro e lui dice io non posso farlo se non vado a roma david era uno venale che si faceva strapagare anche solo per far vedere i suoi quadri anaffettivo crudele terribile però un grandissimo artista e quindi viene a roma per dipingere il giuramento degli orazzi e cioè una storia antica della roma repubblicana in cui i tre fratelli gli orazzi giurano sulle spade sulle spade del padre che andranno a combattere contro i nemici più curiarsi fino alla morte dall'altra parte david che anche lui viene a roma per incontrare appunto questo modello romano ecco quello che si coglie è che niente è neutrale nella vita cioè la stessa cosa l'incontro con roma con l'antichità con le statue antiche con la bellezza insuperabile delle case di pompei con gli oggetti ritrovati con questa cosa per cui uno si accorge che avevano già fatto tutto che non era qualcosa che non si poteva non si poteva più superare da un lato produce un'azione come quella di david che è produttiva cioè il modello è quello noi su quel modello costruiamo il futuro quindi l'antichità come futuro lui costruisce una scena che come vedete è razionalissima quattro metri di base c'è una due diagonali che si intersecano al centro proprio il fulcro della storia poi come si fa nella pubblicità oggi tutto molto molto chiaro i gruppi delle donne a sinistra degli uomini a destra gli uomini eroi forti che vanno incontro alla morte le donne che piangono perché sanno già il destino cioè queste contraposizioni elementari elegibili immediate con una grande chiarezza tant'è vero che noi diciamo sempre che questo è il quadro che ha scatenato la rivoluzione francese perché tutti si sono riconosciuti in questa idea di valori morali niente corruzione quindi ribellandosi a luigi 16 e nell'89 proclamando la rivoluzione ma questo è un quadro commissionato dal re e fatto quattro anni prima della rivoluzione francese cioè però lui dà voce a questo sentimento nuovo in una maniera così chiara che appunto poi questa è l'intuizione di un artista grande gli altri si riconoscono in questo quindi diciamo l'incontro con l'antichità in david come non so in robert adam in molti altri altri come canova eccetera aiuta a produrre una modernità ispirata all'antico migliore il futuro che cresce insomma è positiva è qualcosa che dà una grande spinta per un artista tormentato angosciato come un artista che viene dal nord che i quali si sentono sempre inadeguati come formazione perché non hanno alle spalle una cultura classica tutti quando vengono a roma subiscono delle frustrazioni gli inglesi tedeschi rispetto agli altri poi non hanno protezione i nordici i nordici quando sono a roma sono protestanti quasi tutti quindi non hanno un lavoro perché i grandi committenti sono la chiesa cattolica che ordina delle statue dei quadri i protestanti non hanno possibilità non hanno come i francesi l'académie de france che per quattro anni ti dà come una borsa di studio a villa medici e ti insegna quindi vivono in queste taverne in maniera miserabile spendendo fino alla fine disperati e in mezzo alla depressione e fiusli insomma non non c'è freud ancora siamo nel 1781 ma dipinge il sonno di una donna che se voi guardate anche soltanto lei in questo erotismo così quasi diabolico insomma che si offre sono gli anni anche del marchese del sad cioè in cui l'amore può essere quello che è rappresentato da canova amore psiche così angelicato perfetto ma anche un risvolto ecco quello che proprio è fondamentale è che noi pensiamo sempre che ci sia prima il classicismo poi il romanticismo invece proprio c'è una dominante che è questa cultura che si ispira al mondo antico in positivo ma in parallelo c'è proprio il pessimismo della ragione in parallelo minoritaria c'è una cultura completamente negativa e fiusli racconta una cosa questo è un sogno molto inquietante c'è un mostro sul ventre della donna che dietro c'è il cavallo con quegli occhi che arriva quindi non lo possiamo neanche raccontare nella sua indeterminatezza ambiguità ma è veramente nightmare poi incubo è anche la parola cavallo di notte insomma usato in due termini quindi sempre molto allusivo quindi sto dicendo che di fronte allo stesso percorso di due grandi artisti che vengono a roma e di fronte a questa funzione di roma come catalizzatore come detonatore delle loro culture la reazione è completamente diversa fiusli scrive delle cose terribili tenta il suicidio perché non si senta non si sente in grado di affrontare questa perfezione assoluta david è trionfante ha trovato tutte le ricette moltiplicherà i suoi quadri e diventa pittore prima della rivoluzione poi del re mi sono fermata forse troppo ecco questo quindi in questi anni non è un caso isolato cioè attorno a questo artista di zurigo che noi non conosciamo perché noi facciamo sempre una storia dell'arte italiana allora in realtà è molto interessante la storia dell'arte in italia perché anche nel seicento a roma c'è caravaggio e ci sono i carracci caravaggio che ormai per noi è il nostro diciamo eroe nazionale però c'era anche vandic c'era rubens c'era insomma l'italia era ancora il cuore del mondo e quindi attorno a ecco faccio ancora vedere tanto è un pubblico abbastanza adulto cioè come in tutti questi artisti diciamo in là questi artisti nordici che vivono in maniera drammatica il rapporto con la grandezza e la bellezza del passato fusti per esempio fa uno studio il primo sulla sinistra come fanno tutti vanno davanti a una statua delle più famose che era il gruppo dell'aucoonte era una statua che tutti un gruppo a marmorio di tre persone in cui il padre e i due figli vengono uccisi dai serpenti che si avvinghiano attorno e questo gruppo che era in vaticano era celeberrimo perché la bravura di fare vedere questo dinamismo nella scultura erano una scultura una copia romana una scultura greca insomma quindi però tutti lo studiano si mettono lì col seggiolino pieghevole con il loro portfoglio lo disegnano lo copiano per avere poi tornando a casa una specie come di repertorio cui ispirarsi fusti centra una sezione di queste tre figure quella più se volete erotica e davanti mette invece che il viaggiatore o il pittore che studia una donna in lui la donna è sempre guerriera è sempre quella dominante l'uomo è sempre come abbandonato quasi al limite della morte in questo abbandono dell'amore vedete un altro dei tanti disegni erotici per dire quando si parla di una cultura libertina nella letteratura o nell'arte è proprio questa emergere di quelle che sono le pulsioni più segrete alle quali viene data voce negli anni in quegli anni e questi disegni sono quasi tutti stranamente a firenze in questo museo horn molto molto grandi di solito sono queste scene di gruppo dove ci sono sempre due donne un uomo la carriera poi di fusti è una carriera perfetta ritorna in inghilterra viene eletta alla royal academy cioè ha una carriera pubblica molto importante ma il l'incontro con l'antichità determina questa specie invece di rapporto negativo frustrante di cogliere gli aspetti più ambigui più e di distorce da una reazione molto diversa in un artista o in un altro basta che io faccia vedere per esempio l'autoritratto di fusti e questo gli artisti sapete l'autoritratto è importantissimo non è che un pittore ne facesse centomila come oggi anche i ritratti non è un click un ritratto di piero della francesca costava un sacco di soldi e se uno si faceva fare il ritratto il duca di montefeltro era per sempre cioè era l'immagine che lui voleva rimanesse di sé quindi il pittore si raffigura come vuole essere ricordato allora fusti è un grande pittore non c'è un solo elemento che sia l'attributo del pittore che lo faccia riconoscere come tale tutti gli autoritrati di pittori fino a questo momento sono con il pittore con quella veste col mantello davanti al cavalletto con la tavolozza in mano insomma che si autodipinge lui si pone a parte la struttura così diciamo a strapiombo su di noi con questo sguardo così ipnotico e con questo asse verticale che taglia e seziona il libro il naso in questa proiezione però lui ha una penna ha un libro non ha nulla che possa rimandare alla sua professione di pittore cioè che cosa vuol dire questo vuol dire che se fino a quel momento il pittore rivendicava la sua ruolo nella società perché sapeva dipingere cento anni prima annibale carracci gli chiedono ma che cosa deve fare il pittore e lui risponde noi altri dipintori abbiamo da parlare con le mani cioè quello che conta è saper dipingere qui nasce un'idea di artista e viene affermata rigorosamente di un artista dove la componente intellettuale è molto più importante il pensare è molto più importante del fare cioè lui si pone come come oggi noi insomma immaginiamo un artista fondamentalmente come un uomo colchissimo che per caso poi dipingerà ma e vedete che è completamente cambiata e sempre con questa idea molto introspettiva che fino ad allora non esiste proprio non esiste questa idea dell'analisi dentro di sé se qualcuno ha in mente un pittore molto tormentato del cinquecento che era pontormo a firenze nella cerchia esiste un diario di pontormo che tutti noi abbiamo letto con una sete di sapere un artista così tormentato in un mondo in cui quasi tutti sono nevrotici pazzi si uccidono che il manierismo il diario di pontormo dice oggi ha bussato il tale ho mangiato un uovo in chiara d'uovo ho fatto cioè il diario è semplicemente il racconto del fuori qui si è come rovesciato il canocchiale e gli artisti da in questo scarto di tempo hanno appunto proiettato la loro puntato il loro fuoco verso il dentro e questo il grande cambiamento non è la corrente dominante in quei secoli è una corrente contemporanea e minoritaria però sono tutte queste queste ecco questa era la frase che citavo prima l'africa sapete allora nessuno sapeva bene dove fossero le sorgenti del nilo era questo mondo profondamente misterioso e il continente che dentro di noi viene paragonato appunto a questo un altro esempio in alto vedete una un gruppo marmorio che era in campidoglio che è stato copiato milioni di milioni di volte perché era una scena di caccia romana con il leone che azzanna un cavallo questo artista a destra invece che è un inglese che ha fatto 19 versioni di questo suo dipinto ispirato a quello romano vedete come appunto di quello che era uno studio di due animali anatomico una scena realistica romana diventa qualcosa che nella dialettica fra il bianco e il nero l'oscurità e la luce il bene il male sembra la sfida ultima insomma di una visione molto tenebrosa questo per dire che anche l'antichità che per noi è la classicità è il mondo di questi valori ideali perfetti di questa bellezza eterna dava come delle reazioni otteneva delle reazioni che molte volte erano in direzione completamente opposta adesso forse voglio arrivare dei punti un po più avanti ma capite benissimo che siamo sempre in questo ambito di questi artisti a Roma perché qui c'è evidentemente l'influenza di Michelangelo questo titanismo in questi pittori ma che cosa fanno cioè tutto è ipertrofico l'iperbole eccessivo la misura classica la norma classica che era la regola viene completamente stravolta ecco per dire ancora come fosse difficile vivere allora il più grande scultore del nord quello che corrispondeva a canova che chiamavano il canova del nord era uno scultore che si chiamava sergel bravissimo molto amico di gustavo terzo di svezia lui era di stoccolma molto amico di gustavo terzo che sapete è quel re coltissimo che viene in italia molte volte che va a vedere gli scavi di villa adriana che allora erano cominciati ed è quello che viene poi ucciso in un ballo in maschera e che ispira il ballo in maschera di verdi insomma viene accoltellato durante un ballo in maschera ecco sergel quando viene richiesto in patria a stoccolma di fare una scultura per una chiesa cartolica fa un angelo che è questo cioè lui è stato a Roma ha visto il mondo classico ha visto raffaello ha visto canova e fa un angelo assolutamente in linea perché un artista lavorava su committenza e quindi se questa opera deve essere accolta in un luogo pubblico deve essere comprensibile deve rispondere a certi canoni e deve rappresentare ma se voi guardate sergel nella sua dissociazione assoluta nella sua insomma in questa sua crisi depressive continue a Roma lui fa qualcosa che prima prima della psico della psicanalisi noi non l'abbiamo mai incontrato lui fa un diario figurato fatto di fogli disegnati di 25 fogli con sotto la scritta in francese in cui fotogramma per fotogramma auto racconta la sua terribile crisi depressiva cioè questa idea di di questo di questa oscurità che c'è dentro che nessuno ancora aveva cui aveva dato legittimazione insomma è capito di questo tormento la chiamavano la malinconia quindi sogno doloroso cade nella disperazione questo è questo è un altro di questi dove vedete che gli incubi così si materializzano e siamo in pieno 700 quando noi parliamo di freud si freude ci dà gli strumenti per analizzare questa esperienza ma in maniera privata personale individuale a sistematica questo dramma oppure questa conoscenza di una dimensione altra era stata sia nella poesia ovviamente la letteratura che anche nella pittura esplorata già da diversi anni qui adesso vado un momento più in fretta siamo sempre dentro al 700 abbastanza impressionante come libertà di impaginazione e questo è un altro incubo di Flaxman vedete anche questa idea di raccontare cambiando completamente le tecniche utilizzando less is more cioè addirittura usando una tecnica minimalista proprio che riduce semplicemente al contorno la storia è qualcosa di molto sintesi molto moderna naturalmente non è la cultura dominante ma ecco questo vorrei perlomeno avere il tempo di mostrare in una selezione quelle che sono forse le immagini da un punto di vista visionario o mistico profetico ormai più anche molto belle sul piano formale di un artista che è anche poeta che William Blake che è dell'Inghilterra di quegli anni il quale appunto fa questa affermazione che è esattamente il capovolgimento di questa prospettiva cioè si tratta di rompere qualsiasi rapporto con l'esperienza con la realtà pensate che siamo già nell'ottocento che è il secolo in fondo del realismo cioè in pittura tu vai da Corot a Courbet agli impressionisti a tutti quelli che raccontano le cose come sono nelle loro apparenze come appaiono ai nostri occhi e proprio in questo secolo in cui c'è un'affermazione forte di un atteggiamento positivista razionale c'è tutta una corrente che viceversa dice la libertà è quella di abbandonare qualsiasi rapporto con il reale si diceva dannata realtà riesce sempre a disturbarmi cioè se potessi eliminare la realtà e vivere solo e quindi chiudere l'occhio fisico e permettersi questa e questo è appunto un sogno naturalmente di William Blake sono bellissime anche il modo che lui ha di dipingere in questi spazi noi siamo abituati sempre a questo spazio così prospettico rinascimentale come una scatola geometrica dove tutto torna questi spazi così fluidi e dove lui racconta il sogno di Giacobbe che è un tema biblico e che è il tema di Giacobbe che appena ha conquistato la primo genitura da Esau si deve trovare la terra per il suo popolo si ferma stanco su una pietra si addormenta e gli appare un angelo degli angeli che vanno su e giù per una scala e che gli indicano la terra e allora c'è questa idea cioè che ormai è così esoterica insomma il tema della scala che in fondo collega il cielo con la terra il divino con l'umano l'alto con il basso cioè questa continua lettura che va oltre il racconto così immediato quindi il sogno è appunto questa dimensione che ti permette di esplorare qualcosa che è sganciato dalla realtà che è la rivelazione di un'altra parte alla quale si dà uno spazio anche questa noi non riusciamo mai a dipingere noi nell'ottocento siamo poi tutta un'altra cosa di dipingere con una con una fluidità senza rispettare tutte queste regole accademiche che secoli di cultura classica hanno stratificato in noi gli inglesi possono e per esempio quando questo dà un pochino l'idea di questo atteggiamento che se vogliamo non è il sogno è un mondo visionario è un mondo che vuole spezzare quella che è la tradizione dominante e cioè la rivoluzione francese a un certo punto aveva diciamo spazzato via la chiesa come valore centrale cioè si entra in un mondo assolutamente laico la chiesa non è più il riferimento importante addirittura i beni della chiesa vengono conquistati ed è la scienza che prende il posto della chiesa si costruiscono addirittura dei templi a newton boulet immagina una sfera gigantesca che sia il tempio alla scienza invece che alla religione ecco william blake invece in questa dimensione così onirica va contro tutto questo atteggiamento che vuole insomma che vuole avere un rapporto con la realtà e allora prende newton che era la figura come galileo per noi la figura che aveva radicato ogni cosa nell'esperienza e lo rappresenta come una animale selvatico diciamo del tutto sia animalesco brutto cioè rompe per perché in fondo queste sono le catene che impediscono all'uomo di sprofondare in un universo che non è più regolato da queste regole non è il sogno però comunque questa dimensione visionaria che anticipa poi non solo la scienza ma anche la pittura poi surrealista di un secolo dopo perché sono già invenzioni così fiabesche così favolose per esempio anche quando lui illustra questa è un'ispirazione che viene da shakespeare ma vedete questa sproporzione tra i fiori di giglio la figura umana questa libertà di raccontare al di fuori delle regole di razionalità e di logica che sono quelle sulle quali è fondato il nostro mondo moderno insomma l'illuminismo ha dato questo imprinting ed è una ribellione a tutto questo in termini nel caso di william blake che era anche questo mistico e veggente profeta e poeta di rompere queste catene della razionalità della razionalità in nome il nome dicevo sono molto molto belle insomma questa libertà di poter mettere oberon e titania che sono gli sposi e quando si riposano sui gigli insomma in questa dimensione fatata oppure anche di raccontare questa è un altro inglese che sono i più spericolati Richard Dead lo chiamavano Mad Dead cioè in questo inglese quasi pazzo il quale poi racconta una favola di un boscaiolo ma non c'è niente di mostruoso in sé c'è questa diciamo dissociazione della realtà che ti permette di immaginare delle margherite di una dimensione mostruosa delle libellule che sono incredibili e di fronte a questo spaesamento tutto assume un significato così allarmante non razionale non logico cioè la rottura di questo mondo voglio parlare dire la Francia un'altra dimensione arrivo a un punto ecco voglio dire che a questo punto questa storia di affondi in un mondo del sogno in un mondo visionario molto fatta da singoli artisti in maniera molto intermittente senza che avessero una una via assegnata dalla scienza da un'indagine scientifica ma per intuizione può insomma legarci al contemporaneo e uno di questi artisti che vive in Italia che vive a Settignano è appunto Berklin che voi vedete nella immagine in alto dove c'è la dea Calypso e Ulisse in realtà tutto è apparentemente leggibile perché le rocce sono credibili la dea è una donna così abbandonata però questa figura di spalle misteriosa come una mummia inquietante introduce un senso di disagio di enigma di incertezza che spezza quella sicurezza che il mondo logico e razionale ti dà e che non è difficile vedere come tutto questo venga poi colto in un artista italiano che è De Chirico che è già all'origine poi di questi movimenti moderni che noi vediamo e volevo solo vedere se ecco in realtà quello che semplicemente per esempio nella immagine anche di De Chirico dove c'è questa figura che aspetta il risponso dell'oracolo ma dove in realtà non succede niente se non questo senso di mistero così pervasivo e che il sogno è inteso come una dilatazione di campo del possibile dove se si spezzano dei fili che sono quelli della nazionalità ci si può abbandonare a un'esperienza a una rivelazione e quindi quando Freud poi lo disseziona sul tavolo operatorio e dà anche tutti gli strumenti i surrealisti potranno procedere in questo racconto ma questa dimensione più misteriosa più segreta più illogica è quello che percorre un certo mondo in precedenza sul quale insomma che ha una forza rivelatrice che ha una potenza che ha un tentativo insomma di di andare contro quella che è viceversa la linea direttrice di tutto che è quella di un 800 moderno costruttivo positivista che ci ha portato insomma a questo mondo della modernità ma come sotterranea c'è questo elemento che poi ritrovate naturalmente anche nella letteratura mi fermo qui ringrazio mi spiace aver fatto vedere forse artisti che sono meno frequentati così da noi e che sono in gran parte degli artisti del nord i quali non avendo avuto come noi prima la grecia poi la roma insomma questa sedimentazione di una cultura sempre ordinata e classica sono molto più liberi di attraversare strade che non sono quelle non hanno questa dimensione accademica alle spalle non hanno questo burden of the past cioè questo peso del passato che è molto può essere molto costrittivo grazie grazie Grazie.